I dati economici risentono pienamente del distanziamento sociale e dell'arresto delle attività. Uno dei dati peggiori riguarda il mercato del lavoro americano, con più di 20 milioni di disoccupati, che lascia presagire l'andamento dei dati nel prossimo trimestre. Il Fondo Monetario Internazionale rivede inoltre a ribasso le sue previsioni. I tentativi di uscita dal lockdown sono però rilevanti e vengono salutati positivamente dai mercati perché compatibili con un andamento av dell'attività economica. Andrea De Littala, Head of Investment Advisory di PICTEM Italia dal punto di vista delle ripercussioni economiche, è positivo il tentativo dell'Europa di uscire gradualmente dal distanziamento sociale più severo. Questa decisione non è ovviamente priva di rischi. Va rilevato infatti che siamo ancora in presenza di più di 1000 nuovi casi di Covid-19 al giorno. La Cina ha effettuato la stessa scelta con meno di 50 casi al giorno. Attualmente in Cina, in Corea del Sud e in Germania, paesi in cui la gestione della diffusione della pandemia è stata gestita meglio, si stanno verificando focolai di ritorno. La normalizzazione delle attività economiche e del distanziamento sociale potrebbe quindi subire un arresto. Relativamente alle politiche economiche, in Europa è faticoso il raggiungimento di un consenso sugli interventi di natura fiscale. Sembra ancora farraginosa la discussione attorno al Recovery Fund, che dovrebbe rappresentare un sostegno significativo dal punto di vista quantitativo ma le cui tempistiche sono ancora incerte. La Corte Costituzionale tedesca inoltre mette in discussione il quantitative easing in base ad un principio di proporzionalità dello strumento utilizzato per ottenere il fine statutario della stabilità dei prezzi. Ma su questo la BCE non avrà difficoltà a fornire le ragioni richieste. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Rudeu Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso. Nei limiti del prospetto del fondo, gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a pie di pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.